Il legittimo è il diniego dell'istanza di conversione da permesso di soggiorno per la tesa occupazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata indicazione di un documento sul rapporto di lavoro esistente al momento della presentazione della domanda di rinnovo. La mancanza di lavoro, a differenza della presenza di condanne penali, non rappresenta una causa ostativa, infatti vanno considerati gli elementi di novità che sopraggiungano dopo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, per verificare se un certo requisito, quale appunto l'esistenza di un rapporto di lavoro, inizialmente non posseduto, sia poi stato acquisito. A tale riguardo, non dobbiamo dimenticare l'orientamento ormai consolidato che impone che la valutazione circa il possesso dei requisiti vada riferita non al momento in cui viene presentata la domanda, bensì al momento in cui l'amministrazione è chiamata a pronunciarsi su di essa, occorrendo riferirsi alle condizioni attuali. Nel caso di cui alla sentenza del TAR, il ricorrente provvedeva a depositare, nei giorni successivi alla modifica del diniego, la dichiarazione di assunzione, dichiarazione che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire già prima del diniego, in modo da poterla valutare e valutare la sua idoneità per il possesso del requisito lavorativo.